La bolla della perdonanza celestiniana a Matera. La via della croce Matera per l'Aquila immostra la bolla della perdonanza e la collezione di reliquie della famiglia Rivera. In conferenza stampa è stata presentata la manifestazione della via della croce Matera per l'Aquila che si terrà dal 23 marzo al 15 aprile nella città lucana, capitale europea della cultura. Un incontro che si è svolto con una diretta streaming con gli amministratori di Matera e il comitato promotore per il club per l'UNESCO. La bolla a Matera, il sindaco Raffaello De Ruggeri ha parlato di un'alleanza tra città con dati genetici comuni. Da una parte c'è l'Aquila che alla ferita del terremoto, dall'altra a Matera, fino a qualche tempo fa veniva considerata la vergogna d'Italia, due città che però ora guardano al recupero. L'obiettivo della manifestazione è recuperare la dignità da parte di due città che rappresentano valori universali, ha detto il sindaco Raffaello De Ruggeri. La manifestazione vedrà l'esposizione della bolla del perdono insieme alla collezione di reliquie della famiglia Rivera. Per l'occasione, supporto multilinguistico e braille, anche il teatro stabile d'Abruzzo parteciperà con il direttore artistico Simone Cristicchi. Da parte sua, il sindaco Pierluigi Biondi ha voluto ringraziare la famiglia Rivera, presente all'incontro con Vincenzo Rivera, per aver messo a disposizione per l'occasione la collezione privata e anche l'arma dei carabinieri, con il comandante provinciale Antonio Servedio, per la gestione della sicurezza della bolla celestiniana nel suo percorso verso Matera, che avverrà il 22 marzo. L'impegno strappato dall'assessore di Cosimo è stato quello di organizzare una mostra anche all'Aquila, dopo l'evento che ci sarà a Matera.